Vergogna Reggeni, si ferma il processo, rabbia dei genitori, così vince Al-Sisi. Cosa è successo? Ieri la Corte d'Assise di Roma ha sospeso il processo e rimandato il processo al GUP. Perché? Al giudice dell'udienza preliminare. Per una ragione legata a un mero formalismo giuridico. Facciamo una premessa. Il formalismo giuridico è il presupposto sul quale si regge un ordinamento. Quindi la forma negli ordinamenti giuridici è sostanza ed è fondamentale. Benissimo. Perché ha rinviato le carte e quindi il processo al GUP, sospendendolo di fatto? Perché ha agito come se in questa vicenda del povero Giulio noi avessimo dall'altra parte, quando dico dall'altra parte, nella posizione di imputati, dei cittadini italiani che sono contumaci al processo perché non si trovano, perché sono scappati, perché sono altrove. Purtroppo non è così. Perché noi dall'altra parte invece abbiamo quattro esponenti dei servizi segreti di uno Stato come l'Egitto che stanno in Egitto, forse sì, non lo sappiamo, non li conosciamo fisicamente perché non ne abbiamo mai avuto la possibilità, rispetto ai quali, e qui c'è la ragione del formalismo giuridico che ha convinto la Corte d'Assise a sospendere il processo, è stata irregolare la procedura di notifica della loro posizione di imputati. Perché è stata irregolare? Perché verosimilmente il vizio deriva dal fatto che non sai dove trovarli, non sai qual è il tuo interlocutore dal punto di vista anche giudiziario e quindi la notifica dell'atto di imputazione non è stata ricevuta nelle forme giuridicamente corrette. Quindi un formalismo. Nella sostanza però tutto questo si traduce in che cosa? Nel fatto che il processo si ferma, torna indietro e non per caso quindi i familiari dicono così ha vinto la prepotenza degli egiziani. Abbiamo dato ragione a loro sulla base di un cavillo formale che è giusto, probabilmente legittimo, sicuramente legittimo perché non possiamo pensare che la Corte d'Assise abbia agito chissà in che altra maniera e chissà spinta da quale movente. Non ci sarà nessun movente se non il formalismo. Però nella sostanza il risultato è che ancora una volta questo processo si ferma e noi non sappiamo e non riusciamo a portare dietro quel banco degli imputati quelli che verosimilmente il povero Giulio lo hanno torturato, massacrato ed ucciso. Tant'è vero che per chiudere anche questo capitolo, stando esattamente a quello che tu dicevi al di là del formalismo giuridico che è inevitabilmente da accettare, la domanda è se da un punto di vista politico in realtà abbiamo fatto troppo poco, cioè la nostra paura di distruggere, perché tutti noi abbiamo poi giustamente, aspettiamo i processi, vediamo di capire, capiremo il dettaglio, ma le carte dicono delle cose terribili che sono abbastanza difficili da dimenticare e da supporre che non siano vere. Le torture subite da Giulio Reggeni sono qualcosa di irricevibile per chiunque abbia un minimo senso di umanità e che lì dietro ci sia un paese, uno Stato, un governo è ai nostri occhi abbastanza difficile da negare. Allora la domanda è se di fronte a tutto questo, al di là dei formalismi di tipo legislativo, ci sia stato un atteggiamento troppo debole, lasco, dei nostri governi in questi anni. Andrea, usando il gergo dei giure consulti latini, la risposta è in re ipsa, verrebbe da dire, no? Cioè è evidente che quello che è mancato, al di là della vicenda giudiziaria, è l'arma di pressione politica che i governi italiani, perché non è solo uno, non è solo quello di oggi, ma i governi che l'hanno preceduto... Ieri c'era anche una memoria di Conte. Di Conte, esatto, che è stato ascoltato in procura a Roma. Ecco, tutto quello che i governi, l'attuale e i precedenti, non hanno fatto finora nei confronti del governo egiziano e di Al-Sisi. Questa pressione è mancata, è mancata perché, lo sappiamo, l'abbiamo scritto, l'abbiamo raccontato, purtroppo anche in vicende dolorose, tragiche come queste, che chiamano in causa la vita di un ragazzo che non era colpevole di nulla, se non di fare il suo lavoro di ricercatore, viene sacrificata sull'altare della Realpolitik, e la Realpolitik sono, purtroppo, probabilmente anche i flussi finanziari legati ad alcuni business che riguardano soprattutto il settore militare. Le navi. Le navi, le fregate, le armi, purtroppo, che l'Italia produce e che l'Egitto compra. Certo. Purtroppo rompere le relazioni politico-diplomatiche con un paese come l'Egitto ha costi finanziari per le aziende italiane piuttosto elevati e quindi non si vogliono rischiare questi costi, con tutta evidenza. Poi però quello che succede è quello che stiamo vedendo. Infatti noi continueremo a seguire naturalmente il processo di Giulio Reggeni e questa storia perché per noi è importantissima, perché veramente sono quelle storie che definiscono le scelte fondanti di un paese, cioè come ti comporti di fronte a una vicenda così dolorosa, straziante e inaccettabile come questa che riguarda un ragazzo che era lì per studiare, un ragazzo che era partito tra l'altro dall'Inghilterra, cioè uno dei luoghi più protetti del mondo all'interno di un piano di studi. Comunque una storia che conosciamo bene e che noi continueremo... Continueremo perché, aggiungiamo una cosa Andrea, c'è anche una vicenda connessa a quella di Giulio Reggeni ed è quella di Patrick Zaki, che è l'altro studente che è passato in Italia, ha studiato a Bologna, egiziano a sua volta, tuttora detenuto nelle carceri del Cairo, per motivi ignoti ai più, si sospetta di attività terroristiche, ma terroristiche di cosa? Quindi la vicenda Reggeni e la vicenda Zaki sono legate a doppio filo. Vedremo nei prossimi giorni con quali esiti.